Cronache mondiali. L'informazione che arriva da tutto il mondo. Damiano David e la star Disney Dove Cameron. È nata una nuova coppia? Il frontman Damon Eskin ha già dimenticato Martina Taglienti? Damiano David starebbe frequentando da qualche settimana l'attrice e cantante statunitense, Dave Cameron, star di Disney Channel, con diversi singoli di successo alle spalle. Le indiscrezioni circolavano già da tempo, ma nelle ultime ore a fugare, gli ultimi dubbi. Ci ha pensato il magazine C, che ha pubblicato una serie di scatti in cui il cantante e la star si godono qualche momento di relax, fra passeggiate mano nella mano e tenere effusioni, nella celebre Bondi Beach a Sydney, dove i Maneskin si sono esibiti una manciata di giorni fa prima di volare a Tokyo per tre date del rush. World Tour, partito lo scorso 3 settembre in Germania. Le voci di una frequentazione fra Damiano David e Dove Cameron erano iniziate a circolare lo scorso settembre, quando lei era stata vista al concerto Dayman Eskin al Madison Square Garden di New York. Poche settimane dopo, i due erano stati visti in atteggiamenti intimi a una festa, e all'inizio di novembre, la star di Liv e Medi e Descendants e il cantante erano stati visti uscire insieme dall'Espaco Unimed di San Paolo, in Brasile, dopo un concerto della band romana. Né Damiano né Dove hanno confermato o smentito ufficialmente questa nuova frequentazione, ma a giudicare dai profili social del cantante, sembra definitivamente naufragata la sua storia con Martina Taglienti, iniziata subito dopo la fine della sua lunga relazione con l'influencer e attivista Giorgia Soleri, ufficializzata lo scorso giugno dopo la pubblicazione di un video in cui Damiano baciava in discoteca proprio Martina Taglienti, storica amica di Thomas e Victoria. Di Dove Cameron, invece, non si hanno notizie di relazioni, quando l'attrice e cantante aveva confermato la fine della sua storia col collega Thomas Doherty. Dunque, se saranno rose fioriranno, auguri alla neocoppia. Grazie per la visione. Se ti fa piacere, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato.